E' stato completato il percorso di acquisizione da parte della Regione Toscana del patrimonio Alinari, uno dei più grandi archivi fotografici al mondo con oltre 5 milioni di fotografie che sarà esposto nella nuova sede di Villa Fabricotti a Firenze di proprietà della Regione. L'operazione del valore di 15 milioni di euro è completata il 19 dicembre 2019 dopo l'annuncio a maggio dello stesso anno della vendita della storica sede dell'archivio Alinari, è stata illustrata nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze. Obiettivo garantire la fruizione pubblica del patrimonio Alinari. E' un patrimonio fondamentale per ricostruire la storia del Novecento, senza le fotografie, da quando è stata inventata la fotografia ogni oggetto ha una foto più o meno, ogni evento ha una foto, ogni persona ha una foto. Immaginate un patrimonio di 5 milioni di fotografie, cosa significa? Noi l'abbiamo mantenuto unito e abbiamo evitato che si disperdesse, si vendesse a privati. Entro aprile 2020 la Regione approverà un piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari e dentro maggio sarà creata una fondazione nella quale potrebbe essere coinvolto il Ministero per i beni e le attività culturali che ha riconosciuto il valore storico dell'archivio. E' importantissimo appunto che un ente pubblico abbia acquisito un patrimonio così ingente e che poi lo rimetta alla fruizione, lo riporti alla fruizione pubblica, un patrimonio appunto che ci può aiutare anche a raccontare e a interpretare la storia, la storia non solo della nostra regione ma appunto del nostro paese. Un patrimonio di cui è stata ripercorsa la storia fin dal primo nucleo di lastre su vetro che sia nel tempo ampliato per diventare una testimonianza unica della storia italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. La Regione Toscana ha una grande tradizione di cultura e mi auguro anche di poi svolgimento della cultura perché la cultura nelle biblioteche, lì a disposizione di tutti, come ho cercato di dire prima, la cultura di un archivo fotografico è un qualcosa che nasce dall'aggregazione di tanti stimoli. Grazie a tutti.